Io non devo pensare molto a quello che è stato il mio passato perché mi emoziona molto solo pensarci. Perché io ho ancora memoria di mio padre, di mia madre che portava avanti questo lavoro. Salvino, artigiano di Cutrofiano, porta avanti con tanta passione l'arte della ceramica nel suo laboratorio avviato dal nonno, dove ora lavorano anche i suoi figli. Una tradizione che però rischia di andare persa. Il ricambio generazionale è infatti un aspetto ancora critico. Siccome ogni tanto vedo qualche bottega che chiude e mi dispiace molto questo, dobbiamo cercare, trovare il modo di insegnarlo ai bambini, ai ragazzi, ai giovani per portare avanti questa storia. Con l'aiuto nostro, con l'aiuto di qualche istituzione, si potrebbero realizzare tanti laboratori, soprattutto su certi territori nei quali c'è questa forte tradizione. Mestieri questi che si stanno rinnovando anche grazie alla tecnologia possono essere molto creativi e in prospettiva dare grandi soddisfazioni anche ai giovani. Le soddisfazioni chiaramente verranno piano piano, però quando a un ragazzo piace questo lavoro, si avvicina volentieri e riesce a farlo in maniera anche greggia. Anche la tecnologia ci può aiutare in questo, perché noi veniamo da una storia di forni magari antichi e ancora alimentati a legna. Adesso basta schiacciare un bottone e tu ottieni il risultato di una volta e io spero tanto che sia il futuro delle nuove generazioni.